Musica Tragedia in Trentino Alto Adige, turista abruzzese scivola in un dirupo e muore a 50 anni, era un noto parrucchiere di Avezzano, sgomento, in paese. Giulio Ciccone trionfa al Tour de France, il ciclista abruzzese riporta dopo 31 anni la maglia Poix in Italia. I complimenti del governatore Marsilio, che bello vedere la nostra regione protagonista dell'importante Kermes. Si allarga l'inchiesta sul sequestro del cimitero di Francavilla dove sarebbero stati soppressi i cadaveri, spuntano i rifiuti edili della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia. Nuova giunta regionale del Molise, presidente Francesco Roberti pronto a nominare Salvatore Micone di Fratelli d'Italia e Andrea Dilucente per Forza Italia. Poi zittisce l'Otito, decido io. Medico aggredito da tre persone al pronto soccorso di Campobasso, il personale sanitario e la polizia evitano il peggio, solidarietà dall'ordine dei medici. Autismo attrivento un centro polifunzionale che si rivolge non solo ai bambini ma anche agli adulti. L'obiettivo è creare un percorso di vita indipendente. Calcio di Cerni ha scelto un nuovo allenatore, si tratta di Mimì Farrocco. Il Campobasso ufficializza Tordella ed Ercolano. Il Termoli d'ex Roma Grossi. Buonasera, ben trovati con l'informazione di Teleregione. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale perché c'è stata una tragedia in Valbadia, in Trentino Alto Adige. Qui è morto mentre era in vacanza un parrucchiere di 50 anni di Avezzano. Si trovava nei pressi della Grotta della Neve, una popolare attrazione turistica della Valbadia, quando secondo le prime ricostruzioni è precipitato dal sentiero. Le sue condizioni di salute sono apparse subito, critiche e disperate ai soccorritori giunti sul posto. Inutili le manovre per cercare di tenerlo in vita. Cristian Marchionni, il nome del cinquantenne, si è spento poco dopo. La notizia si è diffusa nel giro di qualche ora ad Avezzano, provocando sconcerto e dolore tra i suoi familiari, oltre che tra tutte le persone che lo conoscevano. E facciamo un break con il Tour de France, perché oggi è stato il giorno dell'impresa, compiuta dal ciclista abruzzese Giulio Ciccone, che ha vinto la maglia a Poin, che grazie a lui torna in Italia dopo 31 anni. È un giorno storico per l'Italia del ciclismo e per lo sport abruzzese. A scrivere questa pagina di storie Giulio Ciccone, ciclista nato a Chieti 29 anni fa, è atleta della Trek Lidl che al Tour de France ha conquistato la prestigiosa maglia a Poin, vincendo matematicamente la classifica che premia il miglior scalatore alla Grand Boucle, la corsa a tappe più importante al mondo, e riportando la maglia a Poin in Italia dopo 31 anni. L'ultimo a riuscirci fu Claudio Chiappucci nel 1991 e nel 1992. È stata una partenza lampo, quella dello scalatore abruzzese nella ventesima e penultima tappa, andata in scena in una frazione di 134 chilometri. Supportato subito dai suoi compagni di squadra, Ciccone ha scavato una distanza incolmabile per i suoi avversari. Entusiasmo in Abruzzo, sua terra d'origine, il governatore Marco Marsilio si è complimentato con Ciccone. Che bello vedere l'Abruzzo protagonista al Tour de France, le parole del Presidente. Faccio i miei complimenti a Giulio Ciccone, a lui l'augurio di vederlo ancora ai vertici, anche sulle strade della nostra regione, il prossimo anno. Oggi Giulio Ciccone ci ha fatto di nuovo emozionare, facendoci sentire orgogliosamente abruzzesi con questa meravigliosa conquista, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia. È dal 1992 che un italiano non arrivava a Parigi con la maglia a poa. Continuano ad emergere nuovi particolari sulla vicenda del cimitero sequestrato a Francavilla al mare, dove sarebbero stati soppressi dei cadaveri. Interrate ci sarebbero anche le macerie della Scuola Iovine di San Giuliano di Puglia, abbattuta dal terremoto del 2002. Ce ne parla Pierluigi Boragine. Sul cancello del cimitero di Francavilla al mare ci sono i sigilli, mentre un lungo nastro rosso impedisce l'accesso alla zona oggetto di ampliamento e al centro dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Chieti. Quattro gli indagati, tra cui il direttore dei lavori di ampliamento, nonché presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Luigi Febo, e l'imprenditore molisano, Antonio De Francesco. Due le società coinvolte, su cui sono in corso accertamenti per responsabilità amministrativa, la cimitero San Francesco SRL e la De Francesco Costruzioni. Le ipotesi di reato, formulate dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani, sarebbero gestione o realizzazione di discarica non autorizzata, soppressione di cadavere e frode nelle pubbliche forniture. Dagli scavi effettuati, dopo il 10 luglio, giorno del primo sequestro, sarebbero emersi resti e parti di bare, parti di cadaveri provenienti da tombe non identificate, ma non solo, sarebbero state trovate anche due targhe di bare che, come riportano i colleghi Alfredo D'Alessandro del Messaggero e Lucia San Martino di Primo Piano Molise, corrisponderebbero ad una donna che non risulta nel registro delle estumulazioni e ad un uomo che risulta essere stato cremato. Nell'area destinata all'ampliamento sarebbero stati interrati anche rifiuti edili, tra cui, notizia da verificare e provare, per ora confermata solo da un teste, le macerie della scuola di San Giuliano di Puglia, crollata nel 2002. La situazione complessiva dell'intera area, si legge nel decreto di sequestro, appare seriamente compromessa da attività illegali e appare necessario, anche rispetto all'attività di soppressione delle salme, e eseguire accertamenti su più parti. Dunque, una storia in continua evoluzione, nata, ben ricordarlo, dalla denuncia della sindaca Luisa Russo. Una piantagione casalinga di marijuana è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Popoli e della stazione di Manoppello. Due giovani di Manoppello sono stati arrestati. La coppia, colta in flagranza di reato, dovrà rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione domiciliare è avvenuta al termine di un'ampia attività di indagine. Un operaio di 27 anni e una studentessa di 22 sono stati sorpresi mentre lavoravano nella piantagione domestica. Nelle abitazioni militari hanno rinvenuto 5 piante di marijuana di circa 150 cm di altezza. E siamo alla politica regionale del Molise. Si profila una giunta a 4 con 4 assessori. Sarebbero queste le ultime indiscrezioni che traperano gli ambienti della politica regionale sulle decisioni del governatore Francesco Roberti. Il presidente della regione Molise sarebbe pronto ad allargare il suo esecutivo con altri due componenti Salvatore Micone, il più votato di Fratelli d'Italia e Andrea Dilucente di Forza Italia che si aggiungerebbero agli assessori già in carica ossia il leghista Michele Marone, titolare dei lavori pubblici e delle infrastrutture e Gianluca Cefaratti, assessore al bilancio, lavoro e politiche sociali scelto in quota il Molise che vogliamo, la lista civica di Aldo Patriciello. Solo nei prossimi giorni il presidente Francesco Roberti chiuderà il cerchio designando il quinto assessore e il sottosegretario due posti a cui aspirano quattro degli eletti ossia Michele Iorio, Armandino De Giglio, Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere con questi ultimi due in lizza per il ruolo di sottosegretario. E a proposito della formazione della giunta regionale il presidente Francesco Roberti ha messo in chiaro le cose e ha detto rispetto alle richieste del senatore Claudio Lotito decido io, sentiamo. Ma io voglio ricordare i molisani che hanno eletto un presidente di regione ed è lui quello che decide qualunque cosa assumendosi ogni responsabilità perché il mandato lo hanno affidato a me e a nessun altro. Non si lascia tirare per la giacca né mettere all'angolo da Forza Italia uno dei partiti alleati, il governatore Francesco Roberti. Le richieste del coordinatore azzurro Claudio Lotito probabilmente non saranno accontentate. Il capo della giunta regionale tira dritto e ha fatto capire l'aria che tira durante la riunione con i consiglieri di maggioranza che si è svolta ieri pomeriggio. I consiglieri ieri hanno indicato in Quintino Pallante il presidente che il consiglio regionale voterà lunedì. Avevamo già in qualche maniera definito tutta una serie di percorsi e quale figure dovranno ricoprire i diversi luoghi. Stasera l'abbiamo in maniera concordata e soprattutto condivisa da parte di tutti qual è la nomine del presidente del consiglio e della segretaria del presidente del consiglio. Così possiamo iniziare le attività e poi seguirà l'aggiustamento successivo della giunta. Quindi nel giorno di insediamento dell'assise non ci dovrebbero essere franchitiratori in aula. Lunedì si procederà così come abbiamo deciso e concordato. Quindi non ci saranno né franchitiratori né fumate nere o concili vaticani che allungano procedure che in realtà noi dobbiamo iniziare subito a lavorare. Poi per tutto rispetto ognuno rispetta il ruolo degli altri ma altrettanto devono fare chi oggi in Molise è stato eletto e dovrà rappresentare i molisani. Sono stati stanziati 4 milioni di euro per i 26 comuni delle aree interne della provincia di Teramo. Il finanziamento verrà gestito dal GAL Gran Sasso Laga per progetti di turismo sostenibile e non solo. Sentiamo Chiara Bonatti. Sono stati stanziati 4 milioni di euro dal fondo leader del programma di sviluppo rurale per i 26 comuni delle aree interne della provincia di Teramo. Il finanziamento verrà gestito dal GAL Gran Sasso Laga che dovrà investirlo entro il 2025. Si tratta di un territorio molto fragile e frammentato, soprattutto il versante che dà sui monti della Laga è caratterizzato da comuni con pochissimi abitanti divisi in decine di frazioni. Per questa ragione dobbiamo concentrare la massima energia e gli sforzi. Uno di questi comuni, Cortino, vedrà l'approvazione del piano speciale della ricostruzione in cabina di coordinamento del sisma con il commissario Castelli. Si aggiunge a questo tutto il lavoro che abbiamo fatto sul cratere sismico per accelerare le pratiche della ricostruzione. La festa del GAL era peraltro un'ingiustizia che abbiamo contribuito a sanare, a ripristinare una sorta di equità tra tutti i territori, reinserendo anche il GAL dei Monti della Laga in questo progetto e rendendo possibile questo investimento sull'economia sostenibile. Oltre al turismo sostenibile, la programmazione si pone come obiettivo quello di valorizzare i beni culturali e il patrimonio artistico e ambientale. Tre progetti, il finanziamento di una tappa montana del Giro d'Italia. Soprattutto dopo il Covid riteniamo che il nostro è diventato un territorio ideale per realizzare questa nuova esigenza dei cittadini, dei cammini lenti, del turismo esperanziale. Sarà importante anche per le aree interne che comunque anche nella zona di Teramo soffrono molto? Certamente, basti pensare che quando abbiamo presentato il piano nel 2016 la popolazione nel territorio interessato era di 119.000 abitanti e purtroppo oggi è di 107.000, una perdita grave. Dobbiamo fare di tutto perché questa perdita si fermi, anche e soprattutto perché gli uomini sono un presidio fondamentale, lo abbiamo visto in Emilia Romagna, pensavo a guardare anche il territorio stesso e invece di dire che si verificano degli eventi estremi. E siamo alla sanità. I pediatri abruzzesi andranno a rinforzare l'organico dell'ospedale Santimoteo di Termoli. Lo prevede una convenzione tra l'ASL di Chieti e l'ASREM. L'Abruzzo corre di nuovo in soccorso alla sanità molisana e in particolare garantirà medici pediatri necessari ad assicurare prestazioni e cure ai più piccoli. La cronica carenza dei medici dei bambini anche quest'anno viene tamponata in maniera emergenziale con una convenzione stipulata tra l'azienda sanitaria locale di Lanciano Vasto Chieti e l'ASREM. L'accordo permetterà di acquistare prestazioni specialistiche all'ospedale Santimoteo di Termoli in conseguenza della persistente grave carenza di medici specialisti in pediatria nella sede ospedaliera molisana, si legge nella convenzione. Il provvedimento, affirma del commissario straordinario Evelina Gollo, è stato necessario in quanto, nonostante l'ASREM abbia attivato tutte le previste procedure concorsuali per il reperimento di personale medico-pediatra, le procedure concorsuali sono state infruttuose oppure sono ancora in atto e quindi allo Stato non hanno risolto le criticità. L'attività di consulenza, articolata in accessi settimanali della durata complessiva di 36 ore circa per un minimo di 10 turni mensili, sarà effettuata dal personale medico specialista al di fuori dell'orario di lavoro e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell'azienda sanitaria abruzzese. E c'è stata una nuova aggressione contro un medico del pronto soccorso, il grave episodio è accaduto all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove è arrivata una donna che ha chiesto al dottore un attack per una presunta infezione dovuta ad un tatuaggio. In quel momento al pronto soccorso c'erano casi più urgenti e quando il dottore in servizio ha chiesto alla donna di rispettare la fila secondo il triage lei e il compagno hanno prima iniziato ad insultare pesantemente il medico e poi hanno minacciato il dottore. I due lo hanno anche bloccato nella sua stanza e poi il compagno della donna stava per scagliare contro il medico un telefono cellulare quando sono intervenuti i sanitari in servizio in quel momento e la polizia è giunta prontamente sul posto. Il medico aggredito è stato colto da malore e sottoposto a controlli immediati a causa di sue patologie pregresse. Non sono mancate le reazioni dell'ordine dei medici, ci troviamo di fronte ad un caso drammatico che riguarda questa volta il nostro Cardarelli, ha affermato Paola Di Rocco purtroppo la frequenza di queste aggressioni è sempre più preoccupante. E a Campobasso sarà costruito un nuovo asilo nido al posto della ex scuola materna di Via dei Gasperi cittadini e genitori scontenti ma l'amministrazione comunale spiega l'edificio non avrebbe retto ad un terremoto troveremo soluzioni per i piccoli alunni. Assessore, perché si è scelto di demolire questa scuola piuttosto che effettuare dei lavori di miglioramento sismico? Allora, diciamo che questa scuola ha un indice di sicurezza sismica molto basso anche se diamo uno sguardo, vediamo le pareti che stanno demolendo hanno uno spessore molto limitato. Significa minore grado di resistenza in caso di terremoto? Diciamo che in caso di terremoto questa era molto pericolosa. Sono queste le valutazioni supportate dalle indagini svolte qualche anno fa dall'Università del Molise ad aver spinto il comune di Campobasso a demolire la ex scuola materna di Via dei Gasperi. Qui sorgerà un asilo nido da 55 posti che aprirà il prossimo anno ossia quando saranno terminati i lavori dal costo complessivo di 1 milione e 700 mila euro finanziati con fondi della PNRR. La scelta di abbattere una scuola storica nel quartiere Cepa ha provocato diverse reazioni. Dopo tanto tempo, dopo 50 anni mi sono in sicurezza. Io ho avuto 4 figli e 4 anni in quale asilo. Dopo 50 anni mi dispiace, mi muovo per questo. C'è un nipote che devo andare all'asilo qua e ora non sa dove va quel bambino. Non si sa dove va. Ancora non sappiamo dove va. Ma questa è stata una cosa all'improvviso comunque. Il nuovo edificio avrà questa destinazione. Oggi in Italia si parla di sistema integrato 06 quindi ovviamente verrà realizzato quello che serve per il territorio. Qui c'è un'esigenza dell'infanzia probabilmente è questo ciò che si realizzerà. Entro giovedì prossimo l'assessore all'istruzione Luca Praetano incontrerà i genitori assieme alla dirigente scolastica Agata Antonelli per valutare le soluzioni per gli alunni. Stiamo parlando di edifici quanto più possibile localizzati nella zona in modo tale che possono essere raggiunti anche a piedi e non con le proprie auto ma nel caso in cui venissero raggiunti con le auto che abbiano un luogo dove poter parcheggiare e portare i bambini all'interno faremo edifici sicuri, edifici a piano terra quindi senza barriere architettoniche che abbiano anche un po' di spazio pubblico da poter usufruire perché l'infanzia lo richiede spazi adeguati per i bambini. La scelta del comune ha provocato un po' di malumori soprattutto tra i residenti di questo quartiere questa è una scuola di quartiere a cui si rivolgono tanti genitori. Ma io capisco moltissimo il sentimento di nostalgia rispetto a momenti in cui molti del quartiere magari avranno anche frequentato questa scuola però in questo modo ci dobbiamo anche mettere d'accordo cioè se vogliamo le scuole sicure oppure no recuperare un edificio costa moltissimo e non dà le certezze che invece dà la realizzazione con abbattimento di costruzione. E restiamo a Campobasso Il Consiglio Comunale ha avviato le procedure per la decadenza e per dichiarare l'incompatibilità del sindaco Roberto Gravina eletto consigliere regionale ma siederà all'opposizione dopo la sconfitta alle regionali come avvenuto anche a Termoli per il sindaco e neogovernatore Francesco Roberti. Il presidente dell'Assisi Antonio Guglielmi ha convocato la seduta il prossimo 26 luglio se non sarà raggiunto il numero legale la riunione del Consiglio Comunale slitterà al giorno successivo. E ora ci occupiamo della Vibac lo stabilimento termolese partita la cassa integrazione di un anno per 116 lavoratori mentre i restanti 24 hanno ripreso con le turnazioni in fabbrica il futuro rimane incerto come ci dice Alessandro Adamo. Una vera e propria abboccata d'ossigeno per almeno 12 mesi per i lavoratori della Vibac coperti da cassa integrazione con la speranza di una ripresa dello stabilimento. Qualche piccolo segnale di ripresa già c'è 24 lavoratori su 140 hanno ricominciato a tornare in stabilimento ma sul futuro ancora tanta incertezza. L'accordo noi come CGL lo volevamo blindare con delle clausole di salvaguardia per i 12 mesi ciò non è avvenuto perché c'è stata una votazione a maggioranza probabilmente i lavoratori non hanno compreso quali erano le garanzie all'interno della procedura e dell'accordo. Dobbiamo adesso solo lavorare e sperare che ci sia una ripresa fattiva e che la Regione insieme alle organizzazioni sindacali facciano dei percorsi che possono servire a un rilancio. Ma allora quali sono le soluzioni per la ripresa dello stabilimento? Quella dell'efficientamento energetico dello stabilimento con una discussione che secondo me si può riaprire con la Regione. L'altra sono le scelte e capire l'azienda effettivamente qual è il piano industriale che oggi non l'abbiamo compreso nelle discussioni che ci sono state per la procedura di licenza. Quindi capire bene quali sono le scelte in futuro perché è facile dire che abbiamo una perdita di 11 milioni c'è la guerra in Ucraina c'è il caro bolletto e quindi andare dettagliatamente nel problema se c'è qui a Termoli. Poter godere della bellezza del borgo di Monte Pagano durante le serate estive e passeggiare tranquillamente nel centro storico della frazione rosetana. Sono questi gli obiettivi che hanno portato l'amministrazione comunale di Roseto guidata dal sindaco Mario Nunez ad emettere un'ordinanza che istituisce l'isola pedonale in corso Umberto I dalle 18 alle 24. La richiesta di istituire l'isola pedonale era stata presentata nei giorni scorsi dal consiglio di quartiere di Monte Pagano ed è stata subito accolta dall'amministrazione comunale. E Silvi festeggia la bandiera blu il comune costiero è tra le prime località balneari della regione per numero di riconoscimenti ambientali l'amministrazione intanto annuncia la settimana corta per le scuole sentiamo Valentina Ciarlante Silvi festeggia la bandiera blu una conferma per il comune guidato dal sindaco Andrea Scordella classificatosi tra le località balneari abruzzesi col maggior numero dei riconoscimenti ufficiali assegnati dalla Foundation for Environmental Education ovvero l'organizzazione internazionale di certificazione ambientale è un simbolo che è un particolare fisso dell'immagine di Silvi e della qualificante offerta turistica della nostra città ha detto il primo cittadino durante la festa in piazza dei Pini grazie al lavoro altamente professionale dei nostri operatori turistici ha proseguito all'impegno delle associazioni di categoria dei balneari degli albergatori degli esercenti di esercizi pubblici e dell'amministrazione comunale che stanno investendo efficacemente risorse proprie e stanno mettendo a frutto il loro know-how acquisito in anni di grande lavoro alla festa hanno partecipato l'assessore regionale al turismo Daniele Damario e alcuni amministratori dei comuni Bandiera Blu della Costa Teramana intanto prosegue su più fronti il lavoro dell'amministrazione comunale di Silvi in queste ore la vice sindaca Lucera Di Marco e l'assessore alla pubblica istruzione Matteo Colatriano hanno annunciato che dal prossimo anno scolastico sarà introdotta la cosiddetta settimana corta la decisione concordata con la dirigente scolastica Paola Monacelli prevede che dal 7 settembre le lezioni della scuola primaria si terranno dal lunedì al venerdì con due giorni di rientro e il sabato con alcune differenze di orario tra classi e plessi per le superiori stesso sistema con in più la previsione di due giorni di tempo prolungato il martedì e il giovedì in cui sarà garantito il servizio mensa e ora ci spostiamo a Trivento dove è stato inaugurato un centro polifunzionale per persone con autismo e che si rivolge non solo ai bambini ma anche agli adulti l'obiettivo è creare un percorso di vita indipendente il 70% di queste persone diventa un paziente psichiatrico se non riceve le cure adeguate è stato detto durante il taglio per il sindaco Pasquale Corallo è stata una giornata storica per Trivento comune che ospiterà il centro polifunzionale per l'autismo Ugo Felice una struttura innovativa e all'avanguardia destinata a diventare un fiore all'occhiello della nostra regione e in tutta Italia in grado di offrire un'assistenza di eccellenza alle persone che soffrono di questo disturbo e alle loro famiglie il centro è nato grazie alla lungimiranza della famiglia Felice che ha donato lo stabile di Via Colle San Giovanni immerso nel bellissimo panorama molisano un sogno realizzato grazie alla cooperativa sociale La Rondine che opera da 25 anni in tutta Italia e che ha sede legale in Abruzzo per me il Molise è un obiettivo come ho detto prima fondamentale perché io sono molisano quindi ci tenevo tantissimo e poi nel Molise mancano alcune strutture fondamentali come queste e abbiamo una missione quella di aiutare gli utenti in questo caso ragazzi adulti ma soprattutto le loro famiglie Il taglio del nastro ieri alla presenza dell'onorevole Lorenzo Cesa del governatore Francesco Roberti e dell'assessore Michele Marone operatori tutti molisani per una struttura che offre alle famiglie servizi sociosanitari di qualità elevata ed è una garanzia per il dopo di noi La struttura infatti mette la persona al centro di programmi di formazione e trattamenti specifici e innovativi L'ABA innanzitutto faremo anche il programma Denver il modello TEC e sono modelli che ci interessano soprattutto per aiutare i pazienti affetti ad autismo ad integrarsi nella società Un centro che si rivolge non solo ai bambini e ai ragazzi ma anche agli adulti che spesso sono quelli che ricevono le cure meno adeguate Circa il 50-60% dei minori che da 17 passano a 18 anni si perdono e diventano psichiatrici si esce dalla neuropsichiatria infantile e si va a finire nella psichiatria La struttura non sarà solo un contenitore ma un progetto di vita per consentire alle persone che soffrono del disturbo dell'autismo di raggiungere un livello di vita indipendente All'interno dello stesso stabile sono presenti più setting assistenziali è composta da una comunità residenziale per 30 posti letto quindi avremo la possibilità di ospitare ben 30 ospiti ben 30 persone per un'età diciamo una fascia più adulta un ambulatorio dedicato all'autismo con prestazioni quindi specializzate specialistiche di tipo sia medico sanitario ma anche psicologico e di tipo riabilitativo e infine c'è un centro di urno per 20 trattamenti giornalieri e cambiamo argomento la DR Automobiles Group di Macchia ha inaugurato un nuovo magazzino vediamo un altro tassello nel processo di sviluppo industriale e commerciale recentemente intrapreso da DR Automobile Group il nuovo magazzino ricambi da poco inaugurato completa una prima fase riorganizzativa degli impianti nella sede centrale di Macchia di Sernia dopo l'ampliamento dello stabilimento di produzione DR Edevo e dopo l'avvio del secondo stabilimento di produzione dedicato ai nuovi marchi Sport Equip e X il quadro è stato completato dal nuovo impianto destinato ai ricambi delle 17 car line attualmente gestite dai quattro brand di DR Automobile Group i ricambi sono stoccati su una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati suddivisi su quattro piani vengono gestiti da oltre 50 magazzinieri attraverso un innovativo sistema di armadi automatizzati un investimento strutturale necessario per far fronte all'incremento avvenuto soprattutto negli ultimi due anni del parco circolante che oggi conta circa 80.000 automobili e al conseguente più 50% di ordini di ricambi provenienti dal network di concessionari e riparatori presenti in tutta Italia il nuovo magazzino rifornirà anche network di vendita e assistenza sugli altri mercati europei a cominciare da quello spagnolo dove è già iniziata la commercializzazione di alcuni modelli del gruppo avvasto di vieto di balneazione temporaneo per la foce di Fosso Marino lo ha disposto il sindaco Francesco Menna il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione del distretto provinciale di Pescara dell'Arta che ha evidenziato valori non conformi per i risultati analitici microbiologici dei campionamenti sui punti di prelievo per la balneazione nell'area denominata foce di Fosso Marino e ora vediamo le previsioni del tempo previsioni del tempo per domenica 23 luglio in Abruzzo tempo stabile dal solato ovunque venti moderati mare poco mosso diamo uno sguardo alle temperature l'Aquila 18 la minima 32 la massima Pescara 25-33 Chieti 20-35 Teramo 21-36 gradi in Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile dal solato ovunque venti deboli mare poco mosso diamo uno sguardo alle temperature Campobasso 19 la minima 35 la massima Esernia 21-34 Termoli 26-32 Venafro 21-37 gradi Ecco le previsioni del tempo si conclude il nostro notiziario non cambiate canale perché dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà la rubrica sportiva intanto io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a farlo sui nostri canali social youtube instagram e facebook arrivederci siamo allo sport iniziamo con il calcio di serie D parliamo del campo basso che ha confermato Matteo Tordella che dunque resta in rosso blu il giovane centrocampista classe 2003 di Colleferro è cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani con un trascorso all'Arezzo lo scorso anno è arrivato durante la stagione e si è subito in posto dunque si tratta di una riconferma importante le sue prime parole riparto dalla consapevolezza di aver vinto un bel campionato in una piazza che merita darò tutto me stesso per questa squadra per fare meglio e per portarla in alto insieme ai miei compagni restiamo a parlare del campo basso perché la società rosso blu ha ufficializzato anche l'arrivo del giovanissimo Simone Ercolano classe 2004 proveniente dall'Isernia cresciuto nel settore giovanile della scuola calcio San Leu cioè protagonista assoluto nell'ultimo campionato con dieci reti messe a segno con la maglia bianco celeste le sue parole la prima volta che sono stato qui lo scorso anno nel derby ho visto l'importanza dei tifosi e l'attaccamento che hanno verso questo club spero di poter ripagare al meglio la loro fiducia e quella della società sono rimasto spiazzato dalla chiamata del direttore non vedevo davvero l'ora di firmare di iniziare questa avventura era un treno che non potevo perdere ha concluso Ercolano che a Campobasso studierà è iscritto all'Università degli Studi del Molise ed ora il calcio sempre di Serie D con il Termoli Termoli che ha ingaggiato l'ex Roma Lorenzo Grossi centrocampista molto dotato tecnicamente dopo la conferma del tecnico Alessio Martino dopo le ufficializzazioni di Scoppa Siciniano Lombardo Ozzan Hernandez l'attaccante e il difensore Cagliazza Maiorino Corcione Cappelli dell'Isernia Rodriguez il super colpo Vittorio Esposito il Termoli del presidente Montaquila mette a segno un altro importante colpo di mercato in maglia giallo-rossa arriva Lorenzo Grossi centrocampista romano classe 98 già nazionale italiana under 18 proveniente dal settore giovanile dell'AS Roma con il quale ha vinto campionato e Coppa Italia under 17 primavera è disputato la Yacht League con la squadra capitolina e ancora 50 presenze il Liga Pro il calciatore oltre a possedere una struttura fisica invidiabile è dotato di un'ottima tecnica e di un tiro niente male Grossi si unirà ai compagni per la preparazione per campionato con l'ambizione di sfruttare quest'occasione per tornare nel calcio che conta andiamo in eccellenza parliamo dell'Isernia che nei prossimi giorni ufficializzerà il nome del nuovo allenatore si tratta di Domenico Farrocco sentite L'Isernia si presenta lunedì o al massimo martedì su il sipario sulla nuova stagione si parte dallo staff tecnico mentre la rosa verrà ufficializzata successivamente per lo staff tecnico nulla di nuovo rispetto a quanto già circolato nei giorni scorsi e riportato da Teleregione sulla panchina Bianco Celeste siederà Domenico Farrocco ex trainer della Cerrese da alcune stagioni nel settore giovanile Bianco Celeste manca solo l'ufficialità che ci sarà dopo l'incontro previsto tra il mister ed il presidente Francesco Paolo Traisci Farrocco si avvarrà della collaborazione del preparatore dei portieri Edoardo Taglienti mentre non si conoscono al momento i nomi del preparatore atletico e del vice novità anche nello staff dirigenziale dopo l'addio a Santo Nastaso Lisernia ha scelto di affidare la campagna di rafforzamento ad Antonio Silvestri operatore di mercato campano non un vero DS ma consulente nei momenti salienti della stagione ad inizio quando la squadra si costruisce e a dicembre quando ci sono gli esami di riparazione sarà una rosa molto giovane ma di qualità assicurano i vertici pentri che hanno concesso a Simone Ercolano talentuoso centrocampista classe 2004 di misurarsi in serie D con la maglia del campo basso Ercolano lunedì inizierà il ritiro ai ordini di mister Mosconi a campo basso giocherà e studierà frequentando i corsi dell'università degli studi del Molise ed ha preso il via ieri pomeriggio a Disernia presso l'area del parco della stazione il torneo di basket 3 contro 3 All Star Summer 2023 notevole il numero dei quartetti presenti a conferma del grande appeal della disciplina nell'estate molisana e Carovilli ospiterà domani la Carovilli Coast to Coast Kermess valida come campionato regionale di cross country individuale e di società la rassegna è organizzata dalla Carovilli Bike la competizione prevede 4 giri di un circuito di 6.500 metri bene questa era la nostra ultima notizia del telegiornale sportivo grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra informazione arrivederci per averci scelto l'eventure per averci scelto l'eventure Grazie a tutti.